Buongiorno, in questo video rifletteremo sull'uomo. Cos'è un essere umano? Chi è l'uomo? L'uomo di oggi è un uomo remissivo, dipendente, vigliacco e pauroso, un uomo che obbedisce passivamente alle leggi capitalistiche. Si potrebbe dire che l'uomo di oggi è un soggetto assoggettato, un uomo in ostaggio, con una fame di oggetti che non conosce limiti. Dov'è finito il diritto di operare delle scelte? E come si può rovesciare tutto questo? Come si può ribaltare la logica che spinge ad un macabro trionfo del possesso, il possesso di oggetti? Freud, Jung e i grandi psicanalisti ci hanno insegnato che il nostro desiderio può trovare soddisfazione non qui, ma altrove. Il paradiso non è qui, ma bisogna muoversi in un'altra direzione e bisogna percorrere una strada, che però non è una strada facile, ma è un cammino dialettico, è un percorso fatto di mancanza, non di possesso, non di oggetti. Questo percorso si snoda oltre le logiche perverse del mercato. È un percorso che non può essere posseduto, in quanto è ciò che ci mette in movimento. È fatto di desiderio e di ricerca. Il percorso è una domanda d'amore verso la vita. Ci spinge ad amare e allo stesso tempo risponde ad una domanda d'amore. Il percorso di ricerca ci spiega come è fatto l'amore stesso. È esso stesso una scintilla del ritorno alla vita. Ma siamo disposti a vivere? Vogliamo la vita? l'uomo vuole la vita. Per volere la vita è necessario curare il desiderio. È il desiderio dell'uomo di oggi che è malato. E il sintomo non è un guasto, ma è il riaffiorare della verità del desiderio tradito. Un desiderio che però è irriducibile, insistente e persistente. Allora la cura psicologica consiste innanzitutto in una disidentificazione, ovvero in una presa di distanza da ciò che il soggetto non è, ovvero dai suoi falsi desideri per esempio. In primo luogo il paziente deve abbandonare quella falsa definizione di sé che ha avuto fino a quel momento, che è come una maschera grottesca. Questo è un percorso psicologico che in quanto tale è fatto di ricerca, cioè di mancanza, di spinte. È un percorso fatto di mistero. Il percorso è il vero oggetto della conquista e nessuno sa cosa ci sia alla fine di questo percorso. Noi non abbiamo risposte. Ma se passo dopo passo avanziamo curiosi e sorridenti, ecco che il vuoto si dischiude e viene fecondato dall'Eros. L'Eros è apertura al nuovo, un'apertura senza paura. L'Eros è espressività di un grido taciuto. È adesione alla vita, apertura all'altro. L'Eros è un ventaglio di possibilità. È uno scenario spalancato, un'occasione di viaggio e di formazione e dunque di rinascita. La psiche dell'uomo è fatta per elaborare conflitti, erotizzando il dubbio per fecondare il vuoto. Bene, io mi fermo e vi informo che faccio consulenze psicologiche online, sia con la videochiamata, sia consulenze telefoniche. Per cui, se volete richiedermi una consulenza, dovete contattarmi su whatsapp al numero 338 16 92 473 scrivendo questo messaggio come funziona la consulenza e specificando il vostro nome, cognome e i vostri orari preferiti. Potete anche visitare il mio canale youtube dove troverete oltre 400 video suddivisi nelle varie playlist. Sono presente su facebook dove ho fondato un gruppo dal titolo psicoterapeuti dell'anima e ho aperto una pagina che si chiama la mia psicologia. In bocca al lupo.